Come fare una foto a una pattinatrice sul ghiaccio? Venite con noi che ve lo mostriamo. Per prima cosa il fotografo si posizionerà abbassato in un angolo. Dalla fotocamera imposta tempi molto brevi, anche 1 su 8000 e gli ISO di conseguenza per l'esposizione, in questo caso 8000. Vado a impostare la modalità di messa a fuoco continuo e la modalità di scatto più veloce possibile. Fate un po' di scatti a raffica e ecco a voi i risultati.